Il sindaco 11, liste e oltre 150 candidati si avvicinano alle elezioni per la città metropolitana. Questo è un momento importante, la città metropolitana è un organismo fondamentale nel rapporto ovviamente tra il comune capoluogo e la grande area metropolitana, quindi c'è un pluralismo di liste che è un fatto positivo, in democrazia è un fatto molto positivo e sono elezioni di secondo livello, quindi aspettiamo queste elezioni e dopo lavoreremo per una buona amministrazione della città metropolitana. C'è tanta attesa dei cittadini anche su questi temi. Anche la città metropolitana avrà un ruolo importante per la spesa dei comuni europei? È un ruolo molto importante, io mi sto dedicando sia alla città che alla città metropolitana, ci sono finanziamenti importanti per entrambi gli enti, perché è chiaro che su una serie di servizi, se parliamo di trasporti, di ambiente, di turismo, il ruolo dell'area metropolitana è fondamentale.